Drummer Chef! Amici e amiche del Drummer Chef! Buonasera, o meglio, buonsoir! Io sono il Drummer Chef al Ristorante Chloé di Ponte della Priula. Gli Anki Panki sono qui per la prima volta e finalmente il Drummer Chef torna su questi schermi perché ne vale la pena. Abbiamo un piatto speciale questa sera cucinato dalla nostra Chef Sonia. Sei pronta a svelare? Un, due, tre! Voilà! La paella! Dalla Francia alla Spagna, hai visto che roba? Ehi! Hola! Hola, amico! Guarda che non si dice voilà! Si dice... Olè! Tieni ragione, tieni ragione, mio amico! E' un piatto spagnolo, che voilà! Olè! Dimmi, cara Sonia, qui, questa paella, carne e pesce, solo pesce? No, è solo pesce, ma senti qua, in questo modo senti l'odore, il profumo del pesce di mare. Mi piace, mi piace, mi piace, mi sembra di essere in Barcelona. A Barcelona, ok! La nostra paella, non francese, ma spagnola, ha le cozze, i peperoni, la classica valenziana, ha tutto, tutti i pescetti, è buona. Ma ce ne hai più di così, no? Il mio tesoro! Il mio tesoro! Il mio tesoro! Il mio tesoro!